Perfetto. Allora senta Sindaco, quanti uffici postali vanno a chiudere nella sua zona o a ridurre di orario? Ne avevamo due, uno l'hanno già fatto secco, chiuso, e l'altro sarà aperto solo tre mezze giornate. Quali le conseguenze per i cittadini? Le conseguenze sono drammatiche per lo Stato, c'è la smobilitazione dello Stato, mancano i servizi pubblici essenziali, per cui mancando anche una mobilità per andare all'ufficio postale, se chiuderanno anche questo, o già oggi con questo disservizio, una persona che ha 90 anni arriva a fare andate e ritorno 80 chilometri. Senta, ma quante persone servirà questo ufficio che verrà messo part time? Ma quanto serve? I residenti anagrafici con avente diritto di voto sono 2000, residenti circa 1150, ma il bello è che noi abbiamo anche gli impianti di risalita, abbiamo gli impianti di sci, quindi c'è una comunità che cerca di vivere. Accompagni questo, andando a vedere sui siti ufficiali, in un ultimo quello della regione toscana, abbiamo una situazione di una popolazione con un basso reddito, se non il più basso reddito della Toscana e abbiamo anche, siamo un paese tra i più longevi che ci siano sicurissimamente in Italia, se non in Europa. Se mischia queste cose ci mette che tolgono l'ufficio postale, tolgono la sanità, le nostre donne partoriscono sull'autostrada, le persone che mi dicono sindaco, ma noi vorremmo tornare a vivere nella nostra terra, ti dicono però, dato che una delle cause principali di morte è il cuore, vorremmo trovare un cardiologo che ci assiste. Non preoccupatevi, sicurissimamente troverete l'ortopedico.